io sono il genius pop tutte le donne in crop magari bronx di deniro a bronx tale torno in limited edition edition edizione mi piace la mia edizione e no 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 tu non sai far bene i calcoli di addizione 2 più 2 non fa sempre 4 e con me l'hai preso diciamo dove dritto dritto 4 4 è un grande film che che mi che 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 se ne dica leggete tutto ciò che non avreste mai pensato potessi dire sul cinema e sulla vita sì sino al 20 luglio è possibile pre ordinare la propria copia personale di bronx la cg entertainment che altri non è che la decaduta c'è chi corre vettore vettore sangora con valeria marina 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 era quella la canzone ma adesso restaurata sì almeno nel mercato home video propone finalmente la versione blu ray delle sordi alla regia del grande boh 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 un'opera tanto amata alla sua uscita quanto poi ingiustamente bistrattata e ricoperta dei peggiori insulti considerata enormemente sopravvalutata un filmetto da quattro soldi insomma e bronx poveretto tu ancora vedi bronx la verità sta nel mezzo bronx non è un capolavoro ma un racconto a che il punto di formazione alla vita di un ragazzo di strada nel quartiere più violento del mondo o almeno degli states il bronx si trova a new york ed è antitetico diametralmente opposto anche come ubicazione geografico topografica miei topoli in topoli rispetto al quartiere dell'alta borghesia della big apple ovvero mannaccia il luogo ovvero annoiato e frustrato booty allen ambientato la maggior parte delle sue pellicole nel bronx non viveva e non vive gente la cui massima disgrazie nella giornata è stata la rottura delle unghie smaltate non c'è uno col culo parato che umbilicale si piange addosso perché l'insegnante di filosofia alteziosa e sempre con la borsetta a tracolla ieri sera non gli ha fatto un pompino elegante si capisce non c'è gente che si preoccupa di stecare e fare brutte figure vive e non sa pure perché vive perché viva perché viva perché viva non sa neppure perché viva no è il congiuntivo viva non ci vuole lo dico io perché è così è chiaro si ingazza e ci sta male si innamora e lo prende lì ma la vita va avanti anche nel di dietro va avanti c'è gente che vive i giorni come fossero gli ultimi fra rabbi e litigi interminabili grida e sceneggiati in esausti lacrime sudore come nel migliore e disparato film di abel abel ferrara infatti il suo protagonista lillo brancato lillo non a casa è stato scelto da abel abel per il nostro natale chloresmas puro metocinem sopra fina diegetica della fisiognomica lombrociana incarnazione della celluloide fatta si vita nei tratti somatici the growing up esistenziale di lillo nato per essere un perdente born to win ma che born to win drogato fradicio incasinato i culinamenti smunti e inquieti della più acerba e tumultuosa ma romantica giovinezza si sono imbolsiti nella presa di coscienza di essere davvero un mezzo gangster magrolino ma ora col pancino e dire che poteva essere il nuovo pacino un po emaciato quando non si fa ma quando non si fa ma 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 comunque come gli italo americani mangia spaghetti quasi adesso pelato o meglio della vita dura spellato la vita che nella sua cruda verità e sulle meta in faccia faccia da schiaffa batò senetti gli ha spiattellato senza fare sconde travallandola e sbutagliandogli il fegate cazzo brancato un uomo da branco dalla giustizia braccato nonostante per discolparsi dalle molteplici accuse si sia fortemente ferocemente sbracciato e tenacemente si sia sgolato uno finito in carcere dove tentò di suicidarsi ma fu fermato dai medici che lo soccorsero e placare un suo folle gesto in extremis giusto un istante prima che quella dose di eroina che voleva iniettarsi gli fosse letalmente mortale un farabutto tutto poiché un eroe uno che forse desiderava decollare e invece rischiò di finire decollato o col collare da sorvegliato speciale controllato a vista e sedato ripudato da che ora non vuole più averci a che fare e lo considera soltanto un ignobile talento sprecato un lessofante e un impresentabile sfigato bronx bronx cari miei è un signor film un film in giacca e cravatta la messa in scena è paurosamente minimalista intimista coccola lillo e lo carezza teneramente come farebbe un padre premuroso con suo figlio figlio unico sangua dal suo sangua perché teme che essendo appunto una scavezza colla possa mettersi nei guai e imboccare strade pericolose e socialmente è pericoloso affiliarsi a cattive compagnie meglio una vita da un animo conducente d'autobus che una vita da ricco boss però io ascolto ancora i boss born to win no era born to run che poi ci rimetti le penne finisci trucidato come son 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 stai attendo a che te innamorerà sceglielo con l'oculate non col culatello con oculatezza si ponderoso e anche ponderato non pare il passo più grande della gamba a quei tipi loschi non pare mai sgambetti non legarti a una da una botta e via perché ti prenderà la cotta poi lei ti mollerà come un coglione e rimarai scottato non bruciarti coglie l'attimo carpe team ma aspettalo con trepidazione senza angustiarti se fallirai domani ritenterai la vita è una e una sola è una una sola tienilo ben a mente non rovinarti da povero demente ecco questi sono i consigli di lorenzo i suoi affettosi benevolenti insegnamenti super rima baciata con tanto di rientro perché rientro fa sonanza con insegnamenti e tu non devi essere sbattuto dentro no non possiamo permetterlo ci sono tanti stronzi in giro che in vita loro avranno letto solo due libri guadagnano fighe come se nulla fosse che son dando a biende ma non valgono nemmeno il loro decrepito putrefatto sbenduto cazzo da deficiente da deficiente porca puttana tratta di una pièce 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 che pezzo di merda teatrale dello stesso palmo giuri cari pazienti oh sto scrivendo un gran pezzo sto recitando un gran pezzo si più rilego quanto da me sino ad ora scritto e più me la tiro come un gaga elargisco genialità a gogo e gongolo mangiando le vongole baciando una dama a venezia sulla gondola magari magari si molta gente di cinema non capisce un cazzo ecco che uno vede bronx gli piace a morire perché come avviene con tutti i film che vede che fra intende e strumentalizza secondo il suo solipsismo ha avuto un'adolescenza turbolente difficile quanto quella di calogero calogero in garrosa e questo racconto tutto sommato è specularmente vicinissimo alle sue esperienze sia ben vedere se ripesca le foto di quando aveva 17 anni noto una somiglianza pazzesca impressionante con calogero base italiana di chi era originale inesperto da passato però non ancora segnato dalla corruzione adulta un puro che sogna un bel fottuto futuro e chi di noi non ha mai invidiato il sonno di turno del quartiere quello moramente discutibile ma che va in giro sulle macchine rosse fiammanti e che sa il fatto suo nonostante le sue bassezze ripugnanti cammina a testa alta per un vuore veste forza armale come un gutfella e tutti lo rispettano perché sono una merda ma non meno di che crede di essere una brava persona e poi conviene un porcato mostruoso solo perché qualcuno è invidioso e fa finta di non capire perché gli conviene non capire e passare dalla parte della ragione con la diplomazia ipocrita il figlio di puttana pulottissimo Bronx non può essere capito appunto da quello che chiamavano la filosofia grunge grunge paga grunge che è grunge è meglio grunge che idolatravano robacce come salton si va al kilm ma vado a andare a pigliare 30 euro e altre puttanate vedo clappate perché Bronx è un film stupido, didattico, palloso e girato in maniera troppo semplice non è satizio, non dogmatizio, non comunica niente è asciutto pieno di primi pieni senza fotografie sporche ma sporche di che? ma vedete pulirte, saturo e pregnante è solo un'altra storia, un'altra storia di Bronx un racconto di vita come lo è la vita stessa non ha bisogno di dire chissà cosa, di dire chissà cosa dice la sua in maniera schietta come te la direbbe il tuo zio siciliano che è quello con le faschiette c'è da eh e quando viene che beve che è una semplicità l'anginante davvero emozionante Bronx non è ripeto un capolavoro, un film da sei e mezzo o sette sì perché la sceneggiatura è un film così facile facile ed edificante e pur faccante da rasendare la pochezza più desarmante io lo scriverei in otto ore seduta seduta a stand mettetemi la prova avanti provatemi tanto sono già provato con tanto di pausa caffè e sigarette intervallante ma uno di quei film che dobbiamo tutti avere in casa in casa perché soprattutto in Italia i padri di esaltati che si fanno shoot che manca fossero all'endolone 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 dove le matti steriche ah 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 quello non mi ha scopato e chi ti scopo paracchia si mettono in posto come fosse Greta Garbo un film così bisogna averlo miei bravi ragazzi miei bravi ragazzi chi lavora un pezzo no ma deve fare ciò che gli piace e io sono nato per scrivere dei cinema per essere il più grande attore di tutto il tempo diciamocelo il resto è una grande stronzetta adesso per piacere vestimi del cognac cognac caro amico scalognato scalognato no vuol dire cognato metto su della musica jazz jazz band questo mio pezzo è quasi rap eh che cazzo eh no c'è jazz 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 palmo di rosa